Anche quest'anno è stata redatta da Euscopio, gruppo di lavoro tematico della Fondazione Agnelli, la classifica dei migliori licei e istituti superiori di Roma. Subito balza all'occhio un ribaltone, in particolare nel ranking dedicato all'indirizzo classico. La medaglia d'oro va a Legno Quirino Visconti, con il Giulio Cesare, primo nel 2022, che scende al quinto posto. Secondo il Mamiani di Prati, terzo il Vittorio Emanuele II, ovvero il convitto nazionale a Piazza Montegrappa. Tra chi esce dalla top ten è invece il Virgilio, decimo l'anno scorso e quest'anno fuori dalla classifica dei primi dieci. Il liceo comunque recupera con l'indirizzo linguistico, si piazza quinto, dopo Amaldi, Renzo, Levi, comunità ebraica, Tacito e Russell. Per quanto riguarda invece lo scientifico, il Righi di via Boncompagni mantiene il primato, seguito dal Cavour, il Morgagni, l'Avogadro e l'Aristotele. Tra i tecnici economici si conferma primo il croce all'Eramo, 78% di occupati. Tra gli istituti tecnologici, l'Istituto Superiore Bachelet-Einstein, 53% degli occupati. A contribuire al posizionamento nella classifica sono la media dei voti conseguiti agli esami universitari dai diplomati di ogni scuola e la percentuale di esami superati, parametri che influenzano i punteggi di ogni istituto e che in questo 2023 fanno registrare qualche importante cambiamento. Grazie mille. Grazie mille.